Pagare ciò che viene comprato non è mai stato così semplice grazie alle carte prepagate. Questi piccoli rettangoli di plastica rendono i pagamenti semplici, veloci e sicuri. La praticità e la comodità di poter fare acquisti, anche online, o prelevare in tutti gli sportelli ATM disponibili certamente hanno trasformato l'esperienza dello shopping in qualcosa di particolarmente gradevole. Talvolta, però, possiamo imbatterci in qualche circostanza spiacevole se, per esempio, improvvisamente la carta dovesse risultare smagnetizzata. Davanti a una situazione di questo tipo, la tecnologia purtroppo non ci viene incontro. Infatti, se la banda magnetica posta sul retro di tutte le carte bancomat o ricaricabili presenta un malfunzionamento tecnico, possiamo dire addio a comodità e velocità. In caso di smagnetizzazione, non possono essere rilevati tutti i dati relativi al proprio conto o ai fondi personali. All'interno degli esercizi commerciali, i post non possono leggere, a tutti gli effetti, le informazioni assolutamente necessarie affinché le transazioni di pagamento possano andare a buon fine. Come si può capire se la carta sia effettivamente smagnetizzata? Sfortunatamente possiamo accoggerci di una probabile smagnetizzazione solo al momento effettivo del pagamento. Bisogna però fare molta attenzione e non pensare subito al peggio. Può capitare qualche volta che non funzioni temporaneamente, proprio il post del negozio o ristorante in cui intendiamo saldare il conto. Pertanto potrebbe essere necessario ripetere semplicemente la transazione e nulla di più. Se invece anche il secondo tentativo non dovesse eventualmente andare a buon fine, è opportuno utilizzare una modalità differente per provvedere al pagamento di quanto dovuto, ad esempio optando per un'altra carta o adoperando i sempre più obsoleti contanti. Meglio provare a effettuare un nuovo pagamento altrove per verificare se il problema sia dovuto effettivamente alla carta in questione piuttosto che al post con il quale il pagamento precedente non è andato a buon fine. Le cause della smagnetizzazione possono essere di diversa natura. La causa più frequente è senz'altro l'usura. Molto spesso le carte vengono stipate insieme ad altro materiale dentro i borsellini, oppure finiscono addirittura per essere mescolate con le carte fedeltà dei vari supermercati in cui, solitamente, facciamo la spesa. Sono soggette a continuo sfregamento perché vengono estratte dall'interno dei portafogli e poi rimesse dentro, talvolta anche con una certa impetuosità. Inoltre, la stessa banda magnetica viene fisicamente strisciata all'interno dei post. Le carte possono facilmente entrare in contatto con polvere o parti metalliche che potrebbero generare inevitabilmente dei graffi. In questi casi la carta diventa inutilizzabile. Come si può evitare la smagnetizzazione? Sarebbe opportuno tenere le carte dentro le protezioni di plastica create e vendute appositamente per ridurre donneggiamenti, come quelli allencati poc'anzi. Questo tipo di protezione, però, risulta essere piuttosto scomoda. Immaginiamo di essere in fila alla cassa del supermercato e di non riuscire ad estrarre velocemente la carta dal suo involucro protettivo, perché è troppo stretta. Si finirebbe per rallentare inevitabilmente tutta la fila. Ci si ritroverebbe in una condizione di estremo disagio, finendo a presuscitare disappunto negli altri. Si consiglia anche di tenere le carte lontane da fonti magnetiche e soprattutto di non metterle a stretto contatto con il proprio smartphone. In realtà non c'è alcun fondamento scientifico riguardo questo aspetto. Inoltre, è più probabile che il telefono lo si tenga costantemente in mano piuttosto che in tasca o in borsetta. Sarebbe opportuno ammettere che questa non sia comunque una probabilità realistica. In questo caso, se sfortunatamente ci si ritrovasse con la carta smagnetizzata, anche sia una carta di credito o debito, bancomat, oppure una semplice prepagata, per richiedere la sostituzione sarà necessario recarsi presso la filiale dell'istituto di credito di riferimento. Non sempre è possibile, in base alla propria disponibilità finanziaria, in caso ci si dovesse ritrovare improvvisamente con una delle proprie carte smagnetizzate, è sempre opportuno avere delle alternative valide per provvedere ai pagamenti. Sicuramente i contatti risultano essere la soluzione immediata più fattibile. Inoltre, in caso di necessità, è sempre possibile recarsi presso la banca che ha messo la carta in questione, per poter richiedere un prelievo tramite l'operatore di sportello. Vi ringraziamo per aver visto questo video e vi ricordiamo che nel nostro canale YouTube troverete tantissimi video sulle carte prepagate e le carte di credito disponibili in Italia al momento. Ci vediamo al prossimo!